Riccardo, a cosa pensiamo per la promozione dei saldi 2023? Megasaldi! E poi? Megasaldi! E basta? Non c'è altro da aggiungere! Con i Megasaldi di Riccardo Corredi, il risparmio è mega! Ma dove? In tutti i negozi Riccardo Corredi. Vai in quello più vicino a te e scegli il tuo materasso, letto, rete o poltrono alzante. Riccardo Corredi, di noi ti puoi mega fidare! Ormai l'abitudine è di tutti andare a spippolare su internet e guardare a destra e a sinistra, ma secondo voi con i saldi si va su internet per comprare un materasso? In una grande distribuzione? No! Si va da Riccardo Corredi, perché il materasso è la prima medicina, 8 ore al giorno ti dura 20 anni, quindi ci vuole una grande qualità italiana. E adesso da Riccardo Corredi ci sono i Megasaldi! E allora per capirne di più, ascoltate Riccardo Corredi. Il letto contenitore perfetto esiste e lo trovi solo da Riccardo Corredi. Abbiamo nuovi modelli e nuovi tessuti, tutti antimacchia e in tanti colori. In più, la nostra artigianalità ci permette di fare tutte le misure perché noi il letto lo creiamo apposta per te. Puoi abbinare anche vari modelli di piedini e di colore. Ogni letto è un pezzo unico, fatto per essere usato e soprattutto durare nel tempo. Pagamenti senza interessi, perché a quelli ci pensa Riccardo. Vieni senza impegno in uno dei nostri negozi, ti faremo toccare con mano la differenza dei dettagli. Ma di chi ti puoi fidare di più, se non di chi ci mette la faccia da più di 40 anni? Materasso duro o materasso morbido? Non esiste una vera e propria risposta per tutti. Possiamo fare qualsiasi tipo di materasso, a molle, immemori, sfoderabili, lavabili e super traspiranti. A richiesta realizziamo qualsiasi misura. Venite a farvi consigliare nei nostri punti vendita, dove il personale altamente qualificato vi saprà indicare il miglior materasso per le vostre esigenze. Sia che non abbiate problemi o che abbiate dolori cervicali o lombari o qualsiasi altra patologia. Migliora la tua postura e circolazione sanguigna con la prima medicina naturale, il materasso. E ricorda, puoi risparmiare anche grazie agli incentivi fiscali. Con i mega salvi di Riccardo Corredi il risparmio è davvero mega. Materassi, reti, letti e poltrone alzanti di qualità italiana ai prezzi più bassi d'Italia. Riccardo! Esteticamente le poltrone sembrano tutte uguali e vengono scelte in base al prezzo. Riccardo Corredi, da più di 40 anni, produce, per dati al prezzo più basso, un prodotto di qualità che non c'entra niente con queste offerte che si trovano in giro a prezzi civetta. Quando parliamo di qualità, intendiamo il telaio multistrato invece che intruciolare. Parliamo di motori affidabili. Solo toccando con mano puoi capire la differenza. Agevolazione fiscale al 4% è per tutti detraibile a fine anno in unica soluzione. La fiducia per noi è tutto e Riccardo ci mette la faccia. Ma di chi ti puoi fidare di più? Quando si parla di saldi, anche al TG si sente parlare di truffe. Allora, siccome si va su internet, grande distribuzione, oppure le televendite prezzo civetta vengono a casa con 10 volte aumentato il prezzo, diffidate dalle invitazioni. Riccardo Corredi vi consiglia di venire nei miei punti vendita, provare il materasso. Perché da noi non trovate saldi, trovate i mega saldi. Riccardo Corredi, di me ti puoi fidare. Riccardo, Riccardo.